E' arrivata la cetta, e cosa c'era? L'arco, che era molto meglio, però, quindi ho una cetta è mia amante, cari più buona, e qui ci siamo, poi, altro lucky block, devi spaccare lì, però poi dopo devi attivare una leva. Eh, hai rotto tutto Lorenzo? No. Eh niente, finita, sono morto. Cosa, sono morto? Veloce, non sei handicappato. Guarda, sto tecnico, finita il mondo. Oh fuck! Sì! Tu sei una cosa che immagina testa? È ma cazzina? È ma cazzina? È ma cazzina. È ma cazzina. È ma cazzina. Questa è l'ultimo Lucky Book che cosa ci darà? L'Illitro! L'Illitro è tutto formato quindi adesso è il momento di evocare il box ragazzi fra tre due uno ti dico che spano volo? eh no però devi far spano tutti insieme non vale non vale non vale non vale non vale non vale ma dovemmo morire, ma dovemmo uscire arrivere si, ci puoi dire oh, è caduto nell'estrambe il piscignacolo, no muori, muori dai, aiuta ma io mi puoi non vuoi ma dovemmo uscire cosa vuoi? continua ma dovemmo uscire ma dovemmo uscire ma dovemmo uscire ovunque non è non è non è non è non è non è E' un ragazzo vuoto sentiamo? Eh! Eh ma! Eh! Eh! Che paura! Ultimo gianghi! Più ci! E' messo! E' comunque non è un vento! E' messo! Dai! Ma non è morire? Ma non è morire? Ma non è morire? No! No! Non ti buttare sotto! No! Non ti buttare sotto! Dai! Ci tengono! Signore no! Signore no! Dai! 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 Sivo! Sivo! No! Sivo! 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 Era per finirlo bene! No! Sivo! No! Product placement! Dai! Aiuto! Aiuto! Sivo! Sivo! bene ma era per finirlo bene ma io non capisco cosa è tutto il tuo trauma quando sei di parlo due che ti fanno torni torno non so ok ok sconto la carne è nata dai no ragazzi per oggi è finito tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao 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 adesso io provo giocatore singolo vediamo cosa succede ciao a tutti qui ragazzi alla pantera che vi fa vedere il gioco se parte perché voglio capire se lagga perché se lagga c'ha uno e dopo io mi arrabbio come una bestia allora qui al momento non succede niente io adesso faccio un tiri tiri che vado a fare un giro cosa c'è che faccio che nasci cacchio mi fai fatta perdere tutto tutto cosa tutto salvo dai le metti in creativa dai lo fai velocemente dai metti in creativa ferma registrazione con il 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 Grazie a tutti.